Per realizzare l'arte presepiale siamo andati a scuola dall'artigiano Sabino Dinuzzo, ci ha fatto vedere i vari modelli dei presepi, poi siamo tornati in officina e abbiamo realizzato un presepi e l'abbiamo realizzato su un foglio di carta, poi l'abbiamo disegnato con i cartoni e poi l'abbiamo progettato sul software della laser, poi abbiamo preso i pezzi e li abbiamo assemblati e questi sono i vari modelli. Grazie 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 Grazie